documentista, compositore, che deve ancora arrivare, lo aspettiamo e nel frattempo stiamo insieme. Io scelgo le canzoni, un paio, perché poi oggi chiuderò la live prima, perché dobbiamo provare io e Maurizio. Gigi, in vetro. Eccoci qui, avevo un vestitino steso e sono andata a prenderlo, lo pieghiamo, lo appelliamo, lo giriamo per l'altra parte. Questo vestito è bruttissimo, è bruttissimo, però, insomma, ormai l'ho comprato, l'ho comprato due anni fa. Ha un buonissimo profumo di bucato pulito. In attesa che arrivi Maurizio Gascalli. E' brutto anche lo vestito da qui, lo vengono, la cammincia. Allora, affegliamo anche questo abito. Ecco, quest'abito ve lo posso mettere stasera per scena. Che devo uscire. Ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere. Mi sa che stasera metterò questo. Sono indecisa se mettere questo stasera. Questo. È lungo, fino alle caviglie. Molto bello. Pizzo sangallo. Oppure, è arrivato un messaggio. Sto salendo, è Maurizio. Maurizio sta salendo. Maurizio sta salendo. E gli apriamo la porta. Un attimo solo che vado ad aprire la porta a Maurizio Gascalli. uno dei miei palmi. Uno dei miei palmi. se vuoi, siamo live su Twitch e c'è uno spettatore perché su Twitch è più difficile avere follower però niente è impossibile niente è impossibile sono dei tentativi cioè dei esperimenti che stiamo facendo e poi in ogni caso a me piace Twitch perché poi mi clono i video che faccio su Twitch e li metto su Facebook quindi non mi interessa che ci sia o meno gente allora questa ce la facciamo dopo io e te perché oggi faremo una brevissima live su Twitch Mutos de Amore o l'abbiamo già fatta? l'abbiamo già fatta sicuro? sì non era l'altra? ci sei due perché mi confondo con l'altra ci sei due allora passiamo ad un'altra allora Anni Mia facciamo di Urzudei vai da bravo Gigi poi la canzone a curva Ta figura bella eccola qua e Arricchetto e Arricchetto la figura bella e Arricchetto sono due brani del del Campidano prima di tutto scritti negli anni 40 scritti negli anni 40 allora Maurizio se vuoi andare poco poco più lì vedi che qui c'è una sbarra non so se mi riprende quindi ok suona Anni Mia capotasto al 2 Mi fai da bravo Gigi vedete la coda di Gigi passiamo un po' mi c'è scritto capotasto al 2 mi mi inchino un po' così mi vedete Anni Mia Anni Mia Dromi Sabitia Anni Mia Anni Mia Dromi Sabitia Anni Mia Anni Mia ser bella e minoretta Anni Mia Anni Mia ser minore ser bella Anni Mia Anni Mia brillarti in saluna Anni Mia Anni Mia brillas che in saluna Anni Mia Anni Mia ten Anni Mia Anni Mia ten fortuna mana Anni Mia Anni Mia Che poi tra l'altro me li metto oltre che su YouTube anche su Facebook e su qualche spezzone su Tik Tok seguiteci anche su Tik Tok Facebook Instagram Twitch Youtube Veroni digitando sempre Veronica Pisano anche se c'è ovviamente anche Maurizio Gastardi però per comodità per comodità in alcuni ho dovuto mettere solo il titolo Veronica Pisano perché non ci stava Veronica Pisano e Maurizio Gastardi quindi come qui su Twitch c'è qualcuno che sta scrivendo buongiorno Veronica e Maurizio dice vedo anche Gigi ciao your mask adesso una canzone a curva ta figura bella aspetta un attimo che devo poi l'ho messo l'altro cellulare devo chiedere a questa persona una cosa questa persona che è collegata dov'è l'altro cellulare devo roma qua oh tanti messaggi qua ecco volevo sapere sei Stefano ah ecco Stefano sì perché c'è un nome difficilissimo in inglese non riuscivo neanche a leggerlo sono riuscita a leggere rela rela as your mask io sto studiando russo russo ho dimenticato l'inglese già da un po' l'ho studiato a scuola le scuole superiori poi non l'ho mai praticato diciamo ok ok grazie mi hai mandato un messaggio su su whatsapp devo chiedere scusa ieri dicevo continuamente gli amici su facebook gli amici su facebook invece gli amici su youtube volevo dire tu non mi hai corretto maurizio devi stare attento il maestro gastaldi Stefano ti chiama maestro gastaldi eh il maestro gastaldi non è attento non è attento canzone a curva da figura bella anni 40 vai maurizio da figura bella è capo 3 maurizio ha sbagliato il capo tasto guarda che Stefano è un musicista è un musicista che ci apprezza molto guarda che ci sta seguendo da youtube a prendere a chiedere youtube Stefano ci segue molto si è un caro ragazzo che ci segue infatti lo vorrei incontrare non so se sia di Cagliari Stefano Stefano sei di Cagliari ok da figura bella possa vista mia ma è atteso o bus mi vedi si basata bastare una porta solo da Sibia poi ti suggero mio sigillà ti è atteso ti è un tesi vostro stu dei nomi di Maria si chi intenzia ponti d'antibattia sa mamma sa rosa sa bror garantia doppia viola calibica Gigi, vieni qui! Vai un giro a canzone! Vieni qui! Non più viola, vi ricca e cala, non mi interessa resciuta questa figura. Dei luchi risprenti, mezzo a chi mi crea, di una rondina di questa ricattura. chi di naru prenda cesaro serrara di aurosini senza mangiarura paris creatura del suo paradiso ditta chi s'ha riso e di mola sovratto de uso d'affatto proporzionale ecco stefano di cagliari de uso d'affatto po delicatesa giuro in su mondo me da non c'indade con donna virtù di donna rinchesa donna giudizio di abilitare ma manchi da fatto in domia sta belleza noi da grupponi seduzioni sdare o necessità di ti deposti mai casese una grai del suo coro mio di oro pulio prenda figura siamo sono in ginocchio sono in ginocchio di oro pulio figura prenda di architetturi moderno disegno se sei una virtù di tengo una gente che non sarà mai con dolce e cariño po' acquistai mi doca che spendas po' in si po' eris in caso di attineo devo ligo un segno su goro amoroso come in teone esposo senza cautela mi doi venti stelas luci illumina e ho cantato in ginocchio in ginocchio ho cantato per una questione di inquadratura ha cantato in ginocchio Gigi vorrebbe uscire ma ha fatto da monello si è mangiato tutta la cacchina e adesso Gigi è messo qua e spera non so se lo vedete Gigi spera di riuscire guardate gli occhi da malandrino gli occhi da malandrino che si è mangiato tutta la cacca Gigi cosa ha fatto Gigi la cacca? e poi se l'è mangiata? cosa hai fatto? monello Gigi bene e ora passiamo all'ultimo brano all'ultimo brano arricchetto 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 senza capotasto infatti Maurizio si è ricordato bene prima però siccome sono due brani che abbiamo imparato contemporaneamente ricordava giustamente che uno di questi si faceva senza capotasto ed era proprio questo arricchetto mi inginocchio di nuovo così mi vedete meglio e con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento maestro Gastaldi ci dice quando? Maurizio? Maurizio! e si è emozionato Maurizio si emoziona se lo chiamano maestro maestro Gastaldi quando ci rivediamo domani? domani domani bene bene e dedichiamo questa canzone a Stefano a Stefano la mano a tutto casa manu canuti barri ringano di costuma da bufai is interesso dessa banca il maestro oggi è in grinta lo vedo solare ecco stefano dice che oggi ti vede solare con grinta il maestro gastaldi figurati stefano bene noi ci diamo appuntamento a domani mi raccomando non perdete la puntata di domani forse la faremo in contemporanea anche con facebook e basta perché ho solo due cellulari quindi anche se ho scaricato l'applicazione per farla un po da tutte le parti contemporaneamente ma mi chiede tante password perché io ho solo apple la apple è un casino è un casino è buona per una cosa però ti crea problemi da un'altra bene allora a domani ciao grazie